no ma sono un pregolo di carmen cazzo mi non faccio un ragazzo non posso fare un compasso ma tu lo vedi? no gira gira è comico questo gira vado a fare un gommo subito vado a fare un come le case vado a fare un mio cane vado a mettere le accounts io faccio un po' da beccia tutte le potenzialità io credo che tutto ne va